Trentatresima Domenica del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli, e radunerà i Suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno, o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il figlio, eccetto il padre. Commento al Vangelo della Domenica di Don Luigi Maria Epicoco Scene apocalittiche nel Vangelo di questa Domenica Gesù fa una scorrettezza, manda avanti il nastro della storia, ci fa vedere il finale. E' come se uno che sta vedendo un film a un certo punto stoppa, e manda avanti, ci fa vedere il finale di questo film. In definitiva, questa sarebbe una cosa molto brutta, perché ci rovina alla sorpresa, ma a volte la nostra vita diventa così strana, così pesante, così insopportabile, che, soltanto se ci ricordiamo come va a finire la storia, allora abbiamo il coraggio di continuare a vivere questa storia, a sopportare questa storia, ad affrontare questa storia. Per questo Gesù ci parla degli ultimi tempi, ci parla degli ultimi giorni, ci parla della destinazione verso cui tutti noi ci stiamo incamminando, e ci dice che Lui ha vinto, ha vinto la guerra, vinto la nostra storia, ha vinto tutte quelle cose che, in questo momento, invece, ci fanno stare male. E soltanto il ricordo di questa vittoria, di questa guerra, fa ingoiare a ciascuno di noi l'amaro dei fallimenti delle nostre battaglie, quando ogni volta che magari affrontiamo qualcosa, sbagliamo, oppure rimaniamo succubi di certe cose. Il ricordo che qualcuno le ha già vinte, queste cose, anche per ciascuno di noi, ci dà il coraggio di viverle con dignità, di prendere un respiro, e di ritrovarci da capo. Il cristiano è uno che si rimette in piedi, non perché trova dentro di sé questa forza per rimettersi continuamente in piedi, ma perché fa memoria e ricorda questo finale, ricorda il suo destino, ricorda che qualcuno l'ha già salvato, che qualcuno ha già vinto la storia, che qualcuno ha già redento la sua storia, e questo ricordo è una forza per Lui e per la gente che sta accanto.